Musica Urnaut, Giannelli va a cercare proprio lo schiacciatore sloveno ci mette una mano rizzo prontamente poi From va a chiudere questa azione subito più tre per gli uomini di Monza al centro, la palla attaccata da Filippo Lanza e poi From ancora Lanza che cerca di difendere ma rischia anche di farsi male Daniele Mazzolini 19 a 12 recita il tabellone del Palatrento From, Jovovic ancora per lui che è veramente scatenato From ancora lui, mamma mia, fa quello che vuole